Ben trovati, quando una persona si dice che la faccia tagliata e quando evita il confronto, evita di rispondere, evita di avere il controllo della situazione perché non può farlo. Purtroppo oggi, gioco forza, mi sono dovuto ascoltare la pagliacciata stampa di Allegri, e purtroppo devo dire perché io sono a sentirlo per me, quella voce, quel modo di parlare, di un'antipatia che supera ogni limite, antipatico, di uno squalore esagerato. E devo dire che oggi gli scendiletti soliti hanno invece mostrato di voler capire certe cose, ma francamente hanno visto poco perché, ripeto, aveva la faccia tagliata Allegri, copriva il malessere che lo circonda intellettualmente. Le domande su Pogba, che lui chiama ormai, la gente ride, Pobba, e su Borucci sono state precise, decise, chiare, molto pregnanti, diciamo così, e lui non ha risposto. Non ha risposto. Lui avrebbe voluto massacrarla da Babrucci. Lui avrebbe voluto dirne di tutti i colori come lo conosceva da Allegri. Sai quando ne avrebbe voluto dire? E invece gli è dovuto stare zitto, gli è dovuto dare il pizzico sulla pancia. Ha dovuto far finta di niente. Ha augurato la carriera di allenatore, di giocare in Coppa dei Campioni. Quando invece gliene ha fatte di tutti i colori, di tutti i colori, come vi dicevo nel video precedente, io tra Borucci e Allegri sto con Borucci, tra la società e Borucci sono con la società. È chiaro che la versione di Borucci è forzata, anche rispetto, chiaramente, al fatto che lui ha compiuto questo atto di denuncia contro la Juventus, di mobbing, e allora vuole passare per la vittima. e questo, francamente, a me dispiace molto, perché sapete dove lo tengo sto Borucci, ma che avesse ragione di Allegri ha ragione totalmente. E quello che si è verificato con Borucci, il quale ha avuto le palle di parlare, si è verificato con quasi tutti i calciatori, insultati, messi in condizioni di andare via, il loro tasso tecnico messo in discussione, la loro carriera messa in discussione, ha fatto così con chiunque, mi fa schifo, Allegri mi fa schifo, solo a vederlo in faccia, mi fa ribrezzo. è una vergogna che la Juventus possa avere tra le proprie file di un allenatore che si chiama Allegri, per quello che ha combinato nella sua carriera. Cioè, questo ha devastato un patrimonio, questo ha rovinato, passato, presente e futuro, sì, perché ha rovinato tutto del suo passaggio. Un uomo senza vergogna, senza un pizzico di serietà. Non ne parliamo proprio. Cioè, il caso Borucci è un caso che la dice lunga su come questo affronta la situazione, ma noi lo sappiamo tutti quanti. Ma anche il modo di rispondere su Pobba, come lo dice lui, Pobba. Lui non dice Pogba, Pobba. La Champions, c'è un ignorante, un ignorante immatricolato, che non sa dire due parole, non sa mettere due frasi insieme, uno che forse non ha manco la quinta elementare. Cioè, questo nella vita è un fortunato. Non si sa, non si sa cosa avrebbe fatto se non trovava quattro, cinque presidenti che gli davano delle squadre in mano. Questo non poteva fare nemmeno lo scaricatore di porto perché non sa contare. È un ignorante. È una cosa, cioè, è di una fortuna strepitosa questo uomo. E stavo dicendo appunto che se non fosse stato per Bolucci che ha un po' scoverchiato. Tutti hanno avuto a che dire e a che fare con questo personaggio. Tutti! 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 Anche chi avrebbe dovuto ringraziarlo ma giustamente entrando anche nel merito lì lo ha rovinato e gli ha fatto perdere la Nazionale. l'attaccante che io adoro tanto adoravo tanto è che non mi viene il nome. L'ho preso da attaccante terzino sinistro ma non scherziamo non mi viene il nome adesso questo è un lapsus freudiano a Mandzukic attaccante di quel livello che sul secondo palo era il più forte giocatore al mondo mise terzino sinistro poi fece capire che ero uno dei giocatori sui preferiti ma quando ne ha fatte quando ne ha combinate quando Bonucci va ringraziato perché Bonucci ha rotto il silenzio manco tanto silenzio poi di di omertà contro questo allenatore perché vanno là i giocatori si prendono i soldi e si stanno zitte ma Tevez se ne andò lo chiamò Cagon Pillolo se ne andò due volte dal Milan e dalla Juventus a Marchisio disse sulla stazione che lui non è stato mai infortunato diceva in conferenza che Marchisio era infortunato e poi Marchisio quando lo hanno svingolato mandato in Russia dove è andato lui disse no ma io non sono mai infortunato ma 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 fatta di tutti i gol fino a quando la Juve vinceva e allora sai vince vince se stanno zitte perché c'è la vittoria ma ora che non vince ora che perde per colpa di questo ossessionato è qualcosa di scandaloso ecco perché non bisogna assolutamente dare dare udienza a quest'uomo cioè se i giornalisti gli fanno notare in sala stampa guarda che questo gli ha chiamato bugiardo guarda che Boruccio ha detto che sei un bugiardo senza dignità senza dignità perché lui caccia i parlori solo quando nessuno può rispondere mi chiamano Pinocchio cioè ma voi pensate che c'era una società un poco più con le palle dopo la conferenza stampa di oggi o prendeva per le orecchie va va attenda va Pinocchio cioè l'allenatore della Juventus che dice mi chiamano Pinocchio ma che vogliamo scherzare ma di cosa stiamo parlando qui ne va di mezzo proprio la 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 serietà ma non scherziamo non scherziamo cose obrubriose cose vergognose non ne parliamo non ne parliamo proprio di questo che cosa combina e fra poche ore arriva la Lazio forse ce lo siamo proprio dimenticati arriva l'allenatore l'ultimo allenatore che ha vinto lo scudetto con la Juventus quel docente universitario di Sarri che quelli che chiamano gli allegriani questi pezzi di merda perché chi si viene che fa chiamare allegriani è un pezzo di merda hanno detto ha le mani nel naso alla tuta tiene gli occhiali bu 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 ba cioè facevano le pulce a Sarri un docente universitario uno che quando parla in conferenza stampa ci vuole laurea solo per capirlo gli allegriani pezzi di merda vergognosi schifosi allegriani si fanno chiamare allegriani comunque dovrebbe essere un 3 5 2 anche quello di di domani naturalmente io non mi azzardo a fare la formazione perché come sapete nessuno indovina mai la formazione fanno migliaia di ipotesi le probabili formazioni non la indovina nessuna non la dice nessuno come dovrebbe essere io posso dire come la farei io la formazione rispetto al materiale umano che c'è rispetto alle indisponibilità mi sembra che a parte Pobba come lo chiama l'invertebrato Pobba non mi siano infortunati chiesa è ampiamente recuperato per cui io giocherei ma se fossi io l'allenatore ma non sono io l'allenatore se ero io l'allenatore si vinceva lo scudetto pure se chiunque era l'allenatore si vinceva lo scudetto tranne che lui tranne che lui tranne che lui allora scesne per il nella stessa cosa scesne l'ho scaricato da anni ormai mi fido molto più di Perin quindi non sarebbe un problema chi dei due deve giocare in porta poi i tre della difesa Bremer Rugani e Gatti per me giocherebbero questi tre qua per me i centrali difensivi devono essere tre difensori centrali tre stantuffi centrali Danilo non è un centrale di difesa Alexandro non è un giocatore di difesa sono esterni peraltro ormai luguri spremuti totalmente quindi per me giocherebbero Rugani e Gatti insieme con Bremer e sarebbe una difesa diversa con Massiccia poi a destra UEA in alternativa Danilo nella fase difensiva e invece lo stesso Iling Junior nella fase offensiva ma lo stesso Cambiasso possono giocare a destra non essendoci Desciglio che è un infortunato di lunga gittata poi McKennie interno di centrocampo Fagioli regista Rabiot interno di centrocampo a sinistra e Kostic quindi ricapitoliamo se dovessi fare io la formazione ma non la faccio io Bremer Rugani Gatti UEA McKennie Fagioli e Rabiot con Kostic le punte Vlauric e Chiesa a mio avviso per cui come potete vedere i quattro scarsoni i quattro il poker d'assi delle vergogne e cioè Alexander Marchetta di Allegri Miretti Marchetta di Allegri Locatelli Vergogna di Allegri Emilic Vergogna di Allegri per quanto mi riguarda non andrebbero nemmeno convocati tutti e quattro non andrebbero proprio presi in considerazione per come sono scarsi per come sono contraproducenti per cui la formazione base della Juventus dal mio punto di vista è una formazione base che riesce ad avere una buonissima forza una buonissima potenza dispiace che non si può tenere conto più di Pogba perché con Pogba questo è un organico che era il migliore del campionato di Serie A il migliore oggi perde molto senza Pogba a mio avviso perde tanto ma rimane comunque la squadra più quotata del calcio italiano la più pagata in termini di ingaggi la più onerosa in termini di valore ancora la più presenza con più presenza di nazionali quindi il minimo sindacale è lo scudetto della Coppa Italia il minimo sindacale per questa squadra se non si vince se si arriva a seconda e non si vince la Coppa Italia è fallimento totale è un fallimento totale e questo purtroppo è a rischio perché c'è quello lì sulla panchina perché la sua presenza sulla panchina fa perdere totalmente quotazioni a questa squadra mi fermo qui mi fermo qui ribadendo che gli allegriani sono gente e merda ma ve lo dico chiaramente senza mezzi termini perché a me le mezze frasi per fare clic da una parte o dall'altra non mi interessano io vi dico la mia opinione gli allegriani sono peggio degli interisti peggio difficile fare peggio di quella gentaglia lì difficile vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube Sergio Vessicchio se siete napolisti interisti e allegriani aderino a fanculo ve lo dico chiaramente non mi interessa vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube a mettere un commento a mettere un like se lo ritenete opportuno e a essere leali nella vita bisogna avere la barra dritta non ci può avere un doppio pensiero per prendere i click di qua e i click di là mi interessa certo mi fa piacere se degli sportivi anche noi gioventini che ritengono che io dica le cose come sta vengono qui si iscrivono vi invito ad iscrivervi ci mancherebbe altro ma se sono ultrasnapolisti interisti e allegriani io te venne a chi lo paese perché non ci è scassata la minchia bene spero che mi che sono stato chiaro questo si riflette naturalmente nei commenti che fate mi fermo qui alla prossima